Aperto a tempo di record il nuovo ponte sul fiume Tagliamento. Domenica il passaggio dei primi veicoli sulla direttrice da Trieste a Venezia. Il ponte rappresenta sicuramente l'opera principale del terzo lotto della terza corsia della 4 Venezia-Trieste e domenica prossima toccherà alla caraggiata verso nord. 379 giorni di cantiere, giorno e notte sono stati necessari a completare il manufatto collaudato con decine di camion carichi di ghiaia ed oggi finalmente percorribile grazie ad un'accelerazione dovuta anche alla nomina come commissario straordinario per l'emergenza 4 del presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. La prima pietra venne posata il 24 novembre dello scorso anno. In soli 10 mesi sono stati posati gli oltre 1.100 conci che compongono il viadotto lungo 1.520 metri su due carreggiate. Prima dell'apertura, sabato, l'autostrada è stata chiusa tra lo snodo di Portogruaro e lo svincolo di Latisane in entrambe le direzioni per permettere le ultime opere di raccordo tra la vecchia e la nuova carreggiata. 36 bilici hanno lavorato sul posto per pareggiare la quota altimetrica e garantire la massima sicurezza del manufatto. Il nuovo ponte prende il posto del vecchio che verrà abbattuto. Da domenica prossima, 16 dicembre, con l'abbattimento di un altro cavalcavia, l'intera circolazione dei veicoli si sposterà quindi sul nuovo grande ponte sul fiume Tagliamento.